benvenuti a tutti a questa nuova puntata di in cucina con lo chef con me una delle più grandi casalinghe d'Italia, Antonella Carrieri. Mi fai diventare rossa, io invece divento rossa perché sto vicino a un grande chef Nicola Vizzarre. Grande perché sono grande. La ricetta di oggi è misto pasta con una zuppa di patate, mettiamo dei funghi pioppini spadellati a parte e del pomodoro rosso a crudo. Procediamo con la ricetta. Andiamo a scaldare il buon olio extravergine di oliva. Partiamo con la nostra base di cipollotto fresco. Tu devi prenderti sempre la tua paletta, ormai sei la fatina. Vedi la paletta, magari sei la magica questa paletta. Tagliamo le patate in cubetti e facciamo insaporire con il nostro cipollotto. Tu fai la classica minestra di patate no? Sì, di regola sì. Sì? Sì. Oggi aggiungiamo un di funghi che sono spettacolari, croccanti, restano in bocca perché bisogna solo spadellarli un po'. Poi hanno un gusto che esalta le patate e i pomodori. Aggiungiamo dei rametti di timo per profumare. Mettiamo le nostre patate e un po' di sedano e facciamo cucinare tutto per una decina di minuti direi. Sedano lo tagliamo a combattini. Perfetto. Gira molto accuratamente, aggiungiamo un po' di sale, mettiamo un goccio di acqua dove andremo a cucinare la nostra pasta e mandiamo avanti per una decina di minuti. Ok? A parte, nel frattempo, possiamo calare già la pasta, sì. Guarda che bella. Abbiamo, io conto un 5-6 tipologie qui di pasta mista, tutta piccolina. Pasta mista? Sì, misto corto. Trafilata al bronzo, c'è una varietà abbondante. tagliamo la nostra pasta. Con il miniscio giusto, va benissimo. Perfetto. A parte, affettiamo e tritiamo lo scalogno. dove andremo a farlo rosolare in una padella antiaderente con dell'olio extravergine d'oliva. Raggiunto un po' il punto di rosolatura. Uniamo un rametto di rosmarino e i nostri funghi chiodini, pioppini, come li vogliamo chiamare. Regoliamo di un pizzico di sale. attendiamo la cottura della pasta, delle patate e dei funghi. Antonella, eccoci qui. Le nostre patate sono belle stufate piano piano. I nostri funghi si sono rosolati a calore moderato, non a fuoco. Qua è un calore. Un calore che ovviamente circonda tutta la padella in tutti i suoi angoli e perimetri per assicurare una buona uniformità di cottura. Siamo quasi pronti. Siamo in una zuppa. Cosa mi piace a me? Mi piace cremosa. 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 Dare quel tocco di cremosità che avvolge tutta la pasta. Sì. È tutta un'altra cosa secondo me. Sì. Per me poi. Io penso che è tutta un'altra cosa. Io chiamo mangiare qualità. Sfrulliamo un po'. Tu nel frattempo puoi scolare la pasta? Ecco qui. Perfetto, vai. Uniamo Uniamo Questo po' di patata che abbiamo frullato per dare cremosità al nostro piatto. Lasciamo insaporire qualche minutino. Nel frattempo Puliamo un attimo un pomodoro rosso che andremo ad aggiungere al piatto crudo. A me piace un pomodoro fresco crudo. Un pomodoro fresco crudo. Servito, diciamo, a mo' di bruschetta. Andiamo a condire con un pizzico di sale e olio. E lo adagiamo al centro del piatto. Bene? La nostra pasta si è bella rilirata e assorbita. Quindi la serviremo così. Guarda questo bel colore del sedano e cipollotto che spicca, no? Hai i funghi sopra, poi? Sì, i funghi sopra. Possiamo mettere un po' così, un po' qua, un po' là. Beh, la presentazione è ovviamente... Fa tanto pure la presentazione, no? Fa tanto perché quando arriva un piatto davanti a chi lo mangia, dice... Cavoli! Trasmette appetibilità, no? Sì, altro! Più si dedica amore e passione, più lo si ritrova nel piatto, no? Un gioco di colori, ovviamente. Ecco qui. Perfetto. E la nostra umile pasta e patate, arricchita con pomodorini... Una dice pasta e patate, però... E funghi. È pronta. Sono le cose semplici, fatte bene, ben... Fatte, veloce. Studiate. Beh, non resta altro che provarla a casa. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata, sempre su questo canale. Ciao, arrivederci. Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale Pasta alla Molisana Olearia Ortuso Del Giudice, il fiore del latte